Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, ieri abbiamo meditato sull'amore di San Francesco per Gesù. Abbiamo meditato che San Francesco vedeva Gesù in ogni creatura, particolarmente nelle creature miti ed umili come gli agnelli. È molto bello ora riportare a completamento di quanto detto ciò che scriveva San Bonaventura. San Francesco contemplava nelle cose belle il bellissimo, ovvero Gesù, e seguendo le orme impresse nelle creature inseguiva dovunque il diletto. Di tutte le cose si faceva una scala per salire ad afferrare colui che è tutto desiderabile. Quest'oggi invece meditiamo sull'umiltà di San Francesco. San Francesco era umilissimo e a volte nelle fonti francescane, ovvero nelle più antiche testimonianze su San Francesco, troviamo un'espressione molto bella con la quale il Santo D'Assisi definiva se stesso. Egli si definiva come il piccolino. Così, ad esempio, nella leggenda maggiore di San Bonaventura, ovvero nella prima biografia su San Francesco scritta da San Bonaventura, sono riportate queste parole del Santo Poverello. Io, piccolino e semplice, inesperto nel parlare, ho ricevuto la grazia dell'orazione più che quella della predicazione. Non voleva di certo fare il finto umile, ma sentiva fortemente la sua piccolezza di fronte alla maestà infinita di Dio. Egli riconosceva tutta la piccolezza della creatura di fronte al Creatore sull'esempio della Beata Vergine Maria, la quale nel Magnificat cantò «Perché ha guardato l'umiltà della sua serva», ovvero ha guardato questo sentimento di piccolezza della creatura nei confronti del Creatore. San Francesco non solo riconosceva la sua piccolezza, ma voleva anche e soprattutto vivere nella piccolezza. Per questo motivo volle che i suoi frati si chiamassero frati minori, ovvero i frati più piccoli, a servizio di tutti. Voleva che questo nome fosse un programma di vita. Così, infatti, diceva, «I miei frati proprio per questo sono stati chiamati minori, perché non presumano di diventare maggiori. Il nome stesso insegna loro a rimanere in basso e a seguire le orme dell'umiltà di Cristo per essere, alla fine, innalzati più degli altri al cospetto dei Santi. «Se volete che portino frutto nella Chiesa di Dio, manteneteli e conservateli nello stato della loro vocazione». All'inizio della sua conversione, San Francesco così pregò davanti al Crucifisso, «Dammi umiltà profonda». Questa umiltà profonda San Francesco l'ha vissuta personalmente e l'ha insegnata a tutti. Così scriveva nella lettera a tutti i fedeli, «Mai dobbiamo desiderare di essere sopra gli altri, ma anzi dobbiamo essere serve e soggetti ad ogni umana creatura per amore di Dio». L'umiltà è il solo atteggiamento ragionevole che un uomo possa avere. Di suo non ha che la miseria e il peccato e tutto il bene che è in lui è un dono di Dio. Per esprimere questa realtà, San Francesco ricorse un giorno a una similitudine molto espressiva. Egli diceva, «Come nelle immagini del Signore e della Beata Vergine dipinte su tavola si onora e ricorda Dio e la Madonna e il legno e la pittura non attribuiscono tale onore a se stessi, così il servo di Dio è come una pittura, una creatura fatta a immagini di Dio, nella quale è Dio che viene onorato nei suoi benefici. Il servo di Dio, dunque, simile a una tavola dipinta, non deve riferire nulla a se stesso. L'onore e la gloria vanno resi a Dio solo. L'umiltà, quella autentica, fa sì che noi accogliamo con riconoscenza dai fratelli le osservazioni e le correzioni. Nella vita di San Francesco leggiamo due episodi che ci potranno aiutare a praticare questa umiltà profonda. Il primo episodio è il seguente. Un giorno, montato su un asinello, perché debole e infermo non poteva andare a piedi, San Francesco attraversava il campo di un contadino che stava lavorando. Questi gli corse incontro e gli chiese premuroso se fosse frate Francesco, avendogli risposto umilmente che era proprio lui quello che cercava, gli disse «Guarda di essere tanto buono quanto tutti dicono che tu sia, perché molti hanno fiducia in te. Per questo ti esorto a non comportarti mai diversamente da quanto si spera». San Francesco a quelle parole scese dall'asino e prostratosi davanti al contadino più volte gli baciò i piedi umilmente ringraziandolo perché si era degnato di ammonirlo. Il secondo episodio, invece, narra dell'imperturbabile pace e riconoscenza che San Francesco aveva anche di fronte alle pubbliche umiliazioni. Aveva predicato una volta al popolo di Terni e il vescovo della città, mentre alla fine della predicazione gli rivolgeva parole di ringraziamento, si espresse così «In questa ultima ora Dio ha illuminato la sua chiesa con questo uomo poverello e di nessun pregio, semplice e senza cultura. Perciò siamo tenuti a lodare sempre il Signore ben sapendo che non ha fatto così con nessun altro popolo». Udite queste parole, il santo accettò con incredibile piacere che il vescovo lo avesse indicato spregevole con parole tanto chiare ed entrati in chiesa si gettò ai suoi piedi dicendo «In verità, Signor Vescovo, mi hai fatto grande onore perché mentre gli altri me lo tolgono, tu solo hai lasciato intatto ciò che è mio. Hai separato, voglio dire, il prezioso dal vile, da uomo prudente come sei, dando l'ode a Dio e a me, la mia miseria». E ora, cari fratelli e sorelle, facciamo un proposito molto importante, quello di accettare con umiltà sull'esempio di San Francesco le osservazioni che ci fanno. Accettiamole e ringraziamo il Signore. E terminiamo, come al solito, con la preghiera. San Francesco, Giglio Immacolato di purezza, che servassi un così bel tesoro tra le spine di un'austerissima penitenza, fa che, mortificando le disordinate passioni, viviamo solo della vita dello Spirito e della grazia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco prega per noi. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E per intercessione della Beata Vergine e Maria di San Giuseppe e di San Francesco, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria. e Maria. Siano lodati